E' stata completata la prima fase dell'imponente intervento di messa in sicurezza del movimento franoso di Contrada Mezzanotte a Teramo. I lavori avviati nel mese di maggio stanno interessando un'area di oltre 5 ettari per un costo totale di 2,6 milioni di euro. Diciamo ci troviamo ad un terzo dei lavori che dovranno essere ancora messi in campo. Adesso inizieranno una serie di palificazioni che serviranno a migliorare qualitativamente l'intervento che stiamo facendo. E' un'operazione di grande mitigazione del rischio che sicuramente non risolve completamente il problema del dissesto idrogeologico di Mezzanotte ma nello stesso tempo è sicuramente uno di quegli interventi che anche ai residenti e ai proprietari dei terreni che si trovano in questa zona servirà a tutelarli e a migliorare il valore del proprio bene. E' un intervento importante che in qualche modo la regione ha tentato di commissariarci. L'abbiamo portato avanti tenacemente, eravamo addirittura d'arrivo quando c'è stata questa voglia e volontà di voler riprendere il finanziamento. Oggi i lavori si stanno facendo nella consapevolezza che tutti gli espropri che abbiamo fatto lo abbiamo fatto in modo bonario quindi con la totale comprensione dei cittadini. Sappiamo che in qualche punto non arriveremo ma come ben ho detto prima so che questo è il primo intervento di altri interventi che dovranno essere messi in campo se vogliamo veramente rendere sicuro quasi 5 ettari di terra che in qualche modo tenda gravitativamente di scendere verso il fiume. Il primo step è stato quello di ripulire i fossati e riaprire i canali per permettere alle acque superficiali e profonde di confluire nel fiume Tordino. A livello della strada invece si sta procedendo nella realizzazione di ingabbiature per contenere il terreno cedevole. L'obiettivo è quello di terminare i lavori prima dell'inverno. Va ricordato che il primo finanziamento ricevuto per quest'area risale al 2001. Quindi dopo oltre 20 anni si interviene ma si interviene soprattutto in un'ottica della cultura, della prevenzione, della mitigazione del rischio e non più dell'intervento in emergenza. Tanti sono stati gli interventi, piccoli interventi effettuati su quest'area, un'area tra le più sensibili e vulnerabili sotto l'aspetto del dissesto idrogeologico della nostra città ma con azioni emergenziali. Oggi si interviene con un'azione importante, significativa di prevenzione così come le amministrazioni devono fare.